Alcuni lavoratori sabato sera della scorsa settimana sono stati chiamati a caricare un Antonov e sono stati informati che avrebbero caricato materiale umanitario e invece sono trovati di fronte a delle casse di armi, tra l'altro una era aperta e hanno visto proprio queste armi. Un fatto grave è quello avvenuto all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. I lavoratori dello scalo toscano, dopo la scoperta della presenza di armi di vario tipo, munizioni ed esplosivi nascoste tra rifornimenti umanitari, si sono rifiutati di caricare il cargo. L'aeroporto Galileo Galilei è sotto il comando dell'aeroporto Dalloro, che è il più grande hub aeroportuale a disposizione della Nato ormai da più di dieci anni. Dal primo marzo sono partiti voli dall'aeroporto militare per trasportare armi in Polonia. Evidentemente non sono sufficienti i voli che partono dall'aeroporto militare. L'aeroporto civile è sotto il comando dell'aeroporto militare, perché le antenne, tutto il sistema di controllo è militare. Ora la domanda retorica è questa, perché pur avendo un aeroporto così grande usano anche un aeroporto civile per mandare armi nascoste sotto le mentite spoglie di aiuti umanitari? La cosa è gravissima, perché chiaramente il trasporto di armi presuppone un certo tipo di controllo, di sicurezza. Cioè parliamo di un aeroporto civile dove partono appunto turisti. Poi fra l'altro abbiamo saputo che subito dopo, cioè il giorno dopo, il personale civile è stato sostituito da personale militare per caricare questi aerei. Mandare armi in una zona di guerra significa alimentare il conflitto.